Ciao raga, il primo videolog, e c'è già mia sorella che fa la scena, allora oggi ho comprato la webcam, ora non la potete vedere qua perchè ha attaccato il computer, però il videolog, in teoria nel videolog la gente risponde alle domande degli utenti, ma io ho solo 8 iscritti al canale e domande non ci stanno. Ehm, boh, era il primo videolog e finalmente è arrivata la primavera, o l'estate, e ora vi farò vedere un po' l'estate da Castagneto Po. Vedete l'estate? Vedete l'estate che bella l'estate? Vedete lì che roba? Guardate qua, è impressionante, guardate che bel tempo che c'è. Ehm, sono il videolog, e Chiara voleva parlare degli equinozi, non so che caso, ah, non volevo dirlo, vabbè, ehm, volevo anche magari dirvi, chiedervi se, se vi piace questo video, se vi va di iscrivervi al mio canale, però, non so se volete. Ehm, non so, ehm, nel videolog non ci abbiamo le domande, ehm, che possiamo dire? Che possiamo dire a questo videolog? Ehm, diciamo che, commentare. Vabbè sì, ma così è troppo, una cosa sembra troppo, uno di questi tipi videolog là. Ehm, volete, magari facciamo un giro nel mio canale, ecco, cosa potremmo fare? Ora, vi faremo, faremo un giro panoramico nel mio canale, per chi di voi non l'avesse mai visto. Ehm, che strano. Oh mio Dio, perché lo vedo riflesso 850 volte? È un effetto strafigo. Vabbè, faccio vedere il mio canale. Allora, qua abbiamo, nove video caricati. Però aspettate, raga, c'è troppo... No, non mi piace. Rimettiamo la videocamera. E vabbè, ehm, allora, dato che non abbiamo un'idea, ci vediamo il mio bellissimo iPod Touch. Così proprio, ehm, boh. Basta, però come primo videolog, va bene. Non vorrei carità. Ma, magari sì, vediamo.